Tifosi Nerazzurri, un saluto da Filippo Sartirana, benvenuti al centro di formazione Suning, 26esima giornata del campionato primavera, si affrontano Inter e Sassuolo. Cortinovis, palla sulla corsa di Carboni che fa un grande controllo in area, Carboni c'è la sua sinistra, palla in mezzo e non arriva Jürgens all'appuntamento col tapin dell'1-0. Va a puntare Macchioni, Peschetola prova ad andare sul sinistro, Peschetola a giro! Una magia di Lorenzo Peschetola, 1-0 al 22esimo, che gol! Azione classica del trequartista Nerazzurro che cerca spazio per andare col suo sinistro e la mette dove Vitale non può arrivare, se l'è creato questo gol e poi ha rifinito davvero in maniera perfetta. Eccolo che parte ancora a cercare Miranda, pallone che rimane lì, Dervisci appoggia al limite, prova ad inserirsi, Toure che va in diagonale Rovida! Azione un po' casuale, bravo a costruirsela però Toure. Macchioni, deve riandare al cross il più velocemente possibile, ancora piena di giocatori, l'area dell'Inter. Macchioni, va al pallone a rimorchio, sfila per il gol del pareggio del solito Flamingo che trova il gol dell'1-1 al minuto 38. Ottavo gol in campionato per il difensore del Sassuolo. Sameli appoggia lì per Pazze, al limite per il sinistro di Auccelli, bravissimo Rovida a distendersi e mettere in angolo. Cecchini-Muller prova a lanciare subito in profondità, Jürgens la lascia lì, Flamingo, Jürgens la porta via, Jürgens in area, Jürgens! Pazze, alto! Qua si è addormentato Flamingo e l'ha portata via, poi non ha centrato lo specchio. Oti, spizzata di abuso per l'inserimento di Peschetola che prova a passare. Peschetola in area, qua ha battuto e cartellino rosso. Li fa fallo qui, Macchioni che non protesta neanche più di tanto, sa di aver commesso un fallo da cartellino rosso. Va Peschetola con il sinistro e sfiora l'incrocio. Ha cercato un altro grande gol Peschetola, l'ha già fatto uno oggi. Sinistro a giro, non va lontano per niente. Va Peschetola a cercare Oti, che gira ma non inquadra lo specchio. Va in mezzo Peschetola, il colpo di testa di Iljev, pallone che rimane lì. Iljev controlla col destro! Arriva il vantaggio dell'Inter, Nicola Iljev al novantatresimo, mette dentro il gol del 2-1. Alla fine cade il muro del Sassuolo. Rimpallo favorevole, stop e destro nell'angolino. Vitale non può nulla e Inter in vantaggio. E non c'è più tempo, vince l'Inter 2-1 con le reti di Peschetola Iljev. È tutto dal centro di formazione Suning, grazie da parte di Filippo Sartirana.